In questi giorni arriverà nei comuni una lettera del dirigente del servizio di gestione delle risorse idriche per invitare i comuni innanzitutto a monitorare i loro serbatoi, a monitorare la quantità di acqua disponibile, di acqua potabile questo per evitare che si trovino magari presi alla sprovvista con carenze inaspettate e anche in relazione al monitoraggio che sarà fatto, sempre i comuni sono invitati anche a diffondere presso i cittadini quelle buone pratiche che abbiamo visto prima nella campagna, quindi le buone pratiche per il risparmio dell'acqua o meglio per il non spreco dell'acqua, nella quotidianità l'acqua non deve essere lasciata scorrere inutilmente solo se noi pensiamo che l'acqua deve essere, il rubinetto deve essere aperto solo quando serve a qualcosa e non dimenticato aperto mentre si pensa ad altro, ecco questo è già un consiglio direi molto utile dopodiché l'acqua potabile deve proprio essere destinata a questo che è l'uso prioritario quindi usare l'acqua dell'acquedotto per fare altro forse è veramente uno spreco in questo momento in particolare